Contra barchi, i residenti esasperati mettono una catena anti-degrado contro droga e alcol. Contra pescherie, appello dei residenti al prefetto, lasciateci un presidio anti-movida. Vittoria di Rete Veneta, via New Jersey ai barchi del centro storico, ecco le fioriere anti-terrorismo. Contributi a IVA non versati, maxi sequestro da 22 milioni, nei guai un gruppo vicentino. Infrange di vieto di avvicinamento a madre e nonna che aveva maltrattato, 39 anni arrestato. Tutto confermato, Zai annuncia, si torna in classe dal 13 settembre. Benvenuti all'informazione di Vicenza che apriamo con il centro storico e con la Movida. Ma andiamo negli angoli più nascosti di Vicenza dove esplode il caso Contra barche. Non di solo a Movida si deve preoccupare Vicenza perché l'esasperazione dei residenti esplode anche in Contra barche dove da qualche giorno è comparso una catena che chiude un tratto di porticato di un palazzo nella piccola piazzetta di Vicolo, Ceco, Retrone. Vietato sedersi per un qualsiasi motivo si legge sui cartelli e suonando i campanelli dello stabile ci raccontano. Se sono tanti ragazzi che si siedono lì si mettono a fumare droga. E per quello è stata messa la catena allora? La situazione a dire il vero sta andando avanti da diverso tempo, tra l'altro poco lontano, di là della passerella ciclopedonale c'è il parcheggio alle barche, è diventato luogo di spaccio. La comparsa della catena è la soluzione tampone trovata dai residenti. Abbiamo fatto degli esposti in quest'ora prefettura del sindaco perché c'era un po' di movimento diciamo e quindi c'erano dei gruppi di ragazzi che si radonavano lì nel sottoportico o all'interno del rione fumavano eccetera e il resto degrado, bottiglie lasciate in giro, quindi l'amministratore lì del 24 ha deciso di installare almeno per prova. Prova al momento a quanto pare dai risultati incerti. Finora insomma ha funzionato relativamente perché allora non vengono più verso le 9, 9 e mezza ma vengono un po' più tardi verso le 11. Poi eravamo preoccupati quando hanno chiuso le pescherie vecchie, numero chiuso, in effetti venerdì c'è stato un episodio abbastanza movimentato, gruppi di ragazzi che inseguivano un altro per picchiarlo e credo si sia rifugiato nel bar. Sono ragazzetti tra i 14, 18 e 20 anni che sciamano in città forti dell'appartenenza ad un gruppo e non manca anche chi ne approfitta per tentare il furto di una bicicletta, tanto che la proprietaria ha lasciato anche un biglietto. Intanto domani è previsto il comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza, si farà il punto sulla movida di contrapescherie vecchie e il comitato lancia anche un appello alle autorità per mantenere un presidio. Sentiamo. Oggi come portavoce del comitato pescherie vecchie sono qui a chiedere di non fare passi indietro, quindi noi abbiamo ancora bisogno di un presidio, però la presenza delle forze dell'ordine deve essere più mirata, più chirurgica all'interno della nostra piazza, al centro di pescherie vecchie. Solo così potremo vivere serenamente la nostra quotidianità, sia come attività commerciali che come residenti. Questo, come detto tante altre volte, non sarà mai la cura. La vera bonifica ce l'avremo soltanto quando determinate attrazioni per i balordi verranno eliminate. Nuovamente sono qui a fare un appello al prefetto, a quest'ora, all'amministrazione comunale di prendere veramente in considerazione la situazione e di non mollare adesso, che siamo sulla strada giusta. Se no tutti i sacrifici che sono stati fatti fino adesso saranno stati fatti in vano. Noi intanto vi ricordiamo di segnalarci quali sono i problemi che vivete ogni giorno davanti a casa vostra, perché poi noi di Rete Veneta li porteremo al vostro sindaco. Lo potete segnalare, il problema che avete vicino casa, con una mail a vicenzachiocciolareteveneta.it oppure con un messaggio al 345-855-9664 o ancora visitando la pagina Facebook gli amici di Rete Veneta Vicenza. Adesso parliamo di una proposta di Rete Veneta che era stata fatta a sostituire in New Jersey antiterrorismo con vasi di fiori. Il comune si era impegnato e oggi finalmente ha mantenuto la parola. La grande bruttezza. Sculture di cemento armato sdraiate a terra. Così per anni Vicenza si è difesa da possibili attentati terroristici. Ma come è possibile che una città rinascimentale possa convivere con questi New Jersey? Una domanda che per anni, noi di Rete Veneta, abbiamo rivolto alle autorità competenti sin da quando sindaco era ancora a chille variati. Avevamo proposto ripetutamente di sostituire questi tronchi di cemento armato con vasi pieni di fiori. E finalmente le promesse ricevute in passato oggi diventano realtà. Negli otto varchi di accesso al centro storico stanno comparendo i nuovi allestimenti floreali. Qui siamo in Piazza Castello all'ingresso con Corso Palladio. Questi invece sono i lavori di allestimento del varco di contrapporti. Sono fioriere, come potete vedere, di colorazione simile a tutti gli arredi urbani del centro storico e quindi perfettamente conformata alla tipologia di uno degli ambienti più gradevoli e di qualità della città. Pensare che grazie a queste barriere si possa fermare un attentato terroristico è pia illusione. Basta guardare l'autobus della linea 10 che, seguito da una macchina, passa i varchi in cemento armato. Questo accade decine di volte ogni giorno. Passaggi continui. Se trova spazio un simile pachiderma, allo stesso modo potrebbe superare le barriere anche un terrorista alla guida di un camion o di un furgone. Se non altro, però, queste fioriere in acciaio zincato, a differenza dei brutti New Jersey in cemento armato, fanno da arredo urbano con essenze perenne e fiori stagionali. È una vittoria della bellezza per il centro storico. I commenti sono assolutamente positivi perché, insomma, un vaso fiorito è certamente più bello di un blocco in cemento. E già, certamente oggi Vicenza, con questi varchi, è una città decisamente più bella di ieri. Una vittoria per i vicentini e per noi di Rete Veneta, che abbiamo sostenuto questa battaglia, oggi finalmente vinta. Quindi, pollice in su, missione compiuta. E sulle fioriere, al posto delle barriere in cemento, arriva anche l'approvazione dei vicentini per la sostituzione. Se ho sentito per televisione, che l'hanno detto, Rete Veneta, se ho sentito, leva qui a vecchia i metti, tutti i fioriere, le pelle, se bravi, bravi. Fatto bene, fatto bene. Questo avviene solo se è frutto di collaborazione e chiaramente viene dai cittadini, dai media, da tutti quelli che naturalmente ci tengono che la città abbia un aspetto veramente bello. Ha una funzione anche sociale, oltre che utile anche sociale. Perché lo sbarramento fine a se stesso era soltanto un blocco di cemento, così che dava fastidio, ed esteticamente era brutto a vedere. E' molto positivo quello che viene fatto, e quindi un applauso all'iniziativa di Rete Veneta. Un centro, una bella strada, importante così. Avete fatto bene, dovevate farlo anche prima. E questo è migliore, non c'è dubbio. Molto meglio, vero? Sì, migliore. Dopo vediamo come sta con i fiori. Era Rete Veneta che ha chiesto di fare la sostituzione. Ah, siete stati voi. Cosa ne pensate? Avete fatto bene, sì, sì, perché erano orrende. Rete Veneta, dopo due anni, penso, è riuscita a far togliere i gelsi e mettere le fioriere e i punti di varco entratte nel centro storico. Direi che questo è un bellissimo obiettivo raggiunto che fa contenti tutti, secondo me, commercianti, associazioni e amministrazione. Contributi e IVA non versati. Andiamo alla cronaca. Maxi sequestro da 22 milioni della Guardia di Finanza di Milano. Nei guai il gruppo Vicentino Cegalin. Maxi sequestro d'urgenza da quasi 22 milioni di euro nell'inchiesta per frode fiscale che vede coinvolto il gruppo Cegalin con sede in via di visione Folgore a Vicenza. Gruppo che da vent'anni si occupa di servizi di pulizia e facchinaggio per gli alberghi. Nove le persone indagate, tra queste figurerebbe anche Pier Antonio Pegoraro, fondatore e amministratore di fatto del gruppo di via di visione Folgore. Oltre ad altri responsabili o ex dell'azienda, un commercialista ed ex amministratore della Hotel Volver, partner del gruppo. Indagate anche le due società. Al centro dell'indagine denominata Dirty Cleanings, la della Guardia di Finanza di Milano, vi è il meccanismo attraverso il quale il gruppo tra il 2013 e il 2017 avrebbe esternalizzato il lavoro avvalendosi di cooperative. Quest'ultime però non avrebbero versato né contributi previdenziali ai lavoratori né IVA. Soldi che poi, attraverso un sistema di fatture, sarebbero stati dirottati all'estero. Un modello fraudolento con gravi condotte che agevolano lo sfruttamento dei lavoratori che determinano pratiche di concorrenza sleale. Scrive così il PM di Milano, Paolo Storari, nel decreto di sequestro preventivo d'urgenza. Secondo quanto avrebbe appurato la Guardia di Finanza, tra il 2013 e il 2016 il gruppo avrebbe usato 21 società per esternalizzare in totale oltre 7000 lavoratori, mentre sempre, secondo le indagini, i rapporti di lavoro con i committenti, le catene alberghiere, venivano schermati a diverse società filtro, riconducibili al medesimo imprenditore, che si avvalevano di cooperative e di fatto società serbatoio, succedutisi nel tempo, trasferendo la mano d'opera dall'una all'altra, omettendo sistematicamente il versamento dell'IVA, degli oneri di natura previdenziale, attraverso l'utilizzo anche di indebiti e compensazioni. Contributi e tasse non pagate. Due cooperative sociali di assistenza ad anziani e disabili dell'Alto Vicentino scoperte evasori totali. Due cooperative sociali con a capo lo stesso imprenditore in sede legale nell'Alto Vicentino, attive nel settore assistenza sociale domiciliare per anziani e disabili scoperte evasori totali, a mettere a nudo l'attività illecita alla Guardia di Finanza di Schio. In particolare i due servizi giuridici hanno sistematicamente operato nel corso della loro vita in totale spregio degli obblighi tributari di dichiarazione e di versamento delle imposte, tanto da essere destinati ai di vecine di iscrizioni a ruolo per circa 860 mila euro tra cartelli esattoriali e avvisi dal debito dell'Inps. Tra l'una e l'altra cooperativa sono circa 180 le posizioni lavorativi inquadrate come vadante per le quali non sono stati versati i contributi Inps e Inail. In questo modo in spregio alle norme l'imprenditore era in grado di fornire servizi a prezzo concorrenziale inquinando il mercato, un danno all'erario e all'ente previdenziale per migliaia di euro. Circa 1 milione e 700 mila euro di ricami non dichiarati, io ho evasa per circa 40 mila euro e ritenute operate non versate sulle retribuzioni per circa 130 mila euro. Ancora cronaca, importante operazione conclusa dai carabinieri di Bassano nella lotta allo spaccio di droga nel territorio. È stato un osservato speciale per quasi un mese e mezzo, poi dopo un pedinamento iniziato a Tiene il nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri di Bassano ha arrestato Abdoun Mohamed, un marocchino 42enne proprietario di una macelleria, per spaccio e detenzione di droga. Giunto nel quartiere San Vito, Abdoun ha venduto cocaina a un bassanese. Poco dopo lo spacciatore è ripartito verso Tiene, sempre pedinato dagli investigatori. Arrivati in prossimità della sua macelleria è stato prontamente bloccato. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti 350 grammi di cocaina, 50 grammi di hashish, oltre a 52 mila euro in banconote. Il 42enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato. Un'operazione contraddistinta da una caratteristica, la perseveranza. Sì, assolutamente vero. I miei collaboratori sono stati veramente determinati a ottenere il massimo. Un'ottima operazione che io ritengo essere di alto livello. Come è avvenuto ad esempio l'arresto? L'arresto è avvenuto concretamente quando siamo arrivati a Tiene davanti alla macelleria appunto gestita da questo soggetto di origine marocchina. L'abbiamo subito braccato nel mentre lui accedeva appunto alla macelleria. Allo momento dell'arresto la sua reazione? No, è stato molto calmo, era tranquillo. Aveva maltrattato i suoi familiari e per questo era stato allontanato da casa. Ora è stato arrestato. Un vicentino di 39 anni è stato arrestato dalla polizia per aver infranto il divieto di avvicinamento alla madre e alla nonna. Il grave provvedimento si era reso necessario perché l'uomo aveva ripetutamente ignorato in più occasioni il divieto imposto dal tribunale. Dopo ripetuti maltrattamenti ai familiari, infatti, era stato raggiunto dalla misura di allontanamento dalla casa familiare già lo scorso 20 aprile. Il mancato rispetto delle disposizioni a suo carico era già stato segnalato dalla questura alla procura di Vicenza. L'ennesima denuncia presentata dalle due donne che segnalava la presenza dell'uomo sotto casa ha fatto intervenire gli agenti delle volanti che hanno fermato il soggetto e accompagnato alla casa circondariale di Vicenza. Ora parliamo di scuola, tutto confermato, si torna in classe dal 13 settembre, l'annuncio oggi dal presidente Zaia. La decisione della giunta è questa, il primo ciclo e il secondo ciclo aprono il 13 settembre, le scuole finiscono l'8 giugno, noi abbiamo tentato di lavorare per i 20 ma oggettivamente non puoi mettere in difficoltà le famiglie. Una notte di riflessione per il presidente Zaia e l'attenzione, l'ascolto alle esigenze dei Veneti e ai ragazzi che per primi hanno patito questo difficile anno di scuola in didattica a distanza e che oggi vorrebbero iniziare il prima possibile. Spero che ricominci il prima possibile, soprattutto in presenza, perché stare a casa è difficile, sia psicologicamente che proprio di cultura è difficile. Sempre il problema dei genitori che lavorano, giusto? E quindi non pensano, le ferie sono sempre date quelle due o tre settimane di agosto o le aziende che se le possono permettere di darle quando le vuole. Ulteriore tassello che va aggiunto e che è venuto meno ad un inizio anno scolastico non più posticipato è legato proprio alla scuola. Che la rassicurazione di avere le scuole comunque aperte, come vi ho annunciato ieri, anche a scuole chiuse, sembra quasi un controsenso, c'è la possibilità che i bambini, i ragazzi possano comunque andare a scuola a fare i doposcuola, i corsi integrativi, insomma, non c'è stata data, nel senso che c'è, c'è un'indicazione ministeriale, ma non tutti saranno aperti, quindi avremmo creato disagio alle famiglie. Bisogni delle famiglie ed esigenze economiche, quelle del turismo in questo caso, non sempre facili da far coincidere. Dunque alla fine si torna in classe il 13 settembre, ma con una pausa natalizia sostanziosa. Dal 24 dicembre 2021 all'8 gennaio 2022, vuol dire che rientro a scuola il 10 gennaio. Prima di salutarci vi ricordo che dopo il TG Vicenza andrà in onda Sport in Casa, condotto da Alex Iuliano, puntata dedicata al settore giovanile del Bassano con ospite Gian Antonio Tessarolo. Per quanto riguarda invece Focus, alle 21.15 con il nostro direttore Luigi Bacialli ci saranno Renato Boraso, Settimo Gottardo, Giovanni Battista, Mestriner, Antonella Tocchetto, Roberto Tuninetti e Giovanna Zucca. Quindi approfondimento con Focus. È tutto per quanto riguarda l'informazione di Vicenza. Grazie per averci seguito, vi lascio alle previsioni del tempo. Arrivederci. Di generazione in generazione tramandiamo ogni giorno gli stessi gesti antichi. Chi si sente? Perché in ognuno dei nostri prodotti ci sono secoli di conoscenza. Ben trovati al meteo. Alta pressione africana sull'Italia e dunque anche sul nostro territorio avremo sole e un clima rovente, insomma una nuova ondata di calore. Il dettaglio di mercoledì 7 luglio. Sul Veneto sarà soleggiato, cielo in genere sereno o al massimo velato, salvo per locali annuvolamenti, più che altro a partire dalle ore più calde sulle zone montane, ma senza piogge associate. Temperature in aumento con crescente sensazione di afa, minime tra 18 e 23 gradi, valori massimi compresi invece tra i 29 e i 35 gradi. Vediamo ora la previsione per Vicenza. In città ma anche in provincia avremo la stessa situazione con tanto sole dappertutto, cielo limpido, sgombro da nubi, senza precipitazioni degne di nota. Il clima risulterà via via più caldo con temperature massime sui 33 gradi. Dal Meteo per ora è tutto, buon proseguimento con Rete Veneta. Gusti unici, premiati e riconosciuti in tutto il mondo. Caseificio Pennar, Asiago. Gusta la differenza.